La Regione Abruzzo entra di forza nello stabilimento dell'Acqua Santa Croce di Canistro. Ha infatti disposto un atto espettivo presso lo stabilimento d'acqua. Da due settimane qui, come è noto, è in atto uno sciopero con presidio dello stabilimento da parte di una ventina dei 75 lavoratori. A renderlo noto è stato il Vice Presidente della Giunta Regionale Giovanni Lolli che da tempo si occupa di questa avvertenza, facendo il punto sulla situazione che vede l'ente in un duro contenzioso con l'azienda. Una visita espettiva e se si troverà acqua imbottigliata verrà sequestrato, ha spiegato ancora Lolli, che è stato ascoltato anche dal Procuratore di Avezzano dopo gli esposti presentati sia dalla Santa Croce per denunciare l'esercizio illegittimo dello sciopero sia dalla stessa Regione Abruzzo che ha chiesto il sequestro dello stabilimento perché la società avrebbe captato acqua senza autorizzazione. Siamo stati costretti a fare un esposto, siamo stati ascoltati dal Procuratore di Avezzano ha spiegato Lolli, è stato un incontro proficuo e costruttivo. Alla fine abbiamo deciso di agire sugli illeciti amministrativi perché a nostro avviso è stata imbottigliata acqua dopo la scadenza della concessione fermo restando l'azione penale che condurrà la magistratura. Solo ieri era intervenuto il neoproprietario Colella che aveva invece accusato duramente il Comune di Canistro e la Regione Abruzzo di non farle entrare nel loro stabilimento che lui invece sta tentando di rilanciare.